Bene, buongiorno, oggi guarderemo come si installa facilmente Alpaca Electron che è un sistema multipiattaforma, quindi vale sia per Mac che per Windows che per Linux che consente di accedere al famoso modello Alpaca che è una versione diciamo open source, quasi open source insomma fatto originariamente da meta e permetto di farlo girare sul vostro computer senza usare la scheda grafica, ok? e quindi funziona anche se non avete particolari computer diciamo da gioco allora a questo punto per scaricarlo dovete andare nelle release vedete qui ci sono le varie release di questo GitHub basta che cerchiate Alpaca Electron, poi comunque nel link ve lo metto andate nelle release, nelle release vedete che avete una versione per Linux per Mac sulle varie piattaforme e per Windows compresso ovviamente del codice sorgente una volta lanciato il programma si installa, è un programma di 78 MB sostanzialmente un'interfaccia utente e questa interfaccia utente sostanzialmente una volta lanciato si blocca e vi chiederà quando viene lanciato vediamo un po' se lo fare adesso ecco vi chiederà di cambiare il model path model path dovete fordire il path quindi cliccare su un modello GGM il modello GGM model lo trovate praticamente nel secondo link che vi metterò quindi su hackingface.com e il modello GGM model lo trovate qua che ho scaricato da poco che funziona appunto con lama.cpp che sarebbe la versione che stiamo facendo uscire adesso e basta scaricarsi questo con download file che sono 5 GB lo scaricate in un post e poi lo puntate una volta lanciato lo vi chiede dov'è e quindi gli dite cos'è ora a questo punto il modello praticamente è vi presento un'interfaccia simile a chat GPT quindi proviamo a spegnere ok e lo rilanciamo da zero ecco lo cercate come succede al quindi praticamente fate al alpaca e electron alpaca e electron e quindi a questo punto vi compare questa classica interfaccia e qui potete farvi le domande che volete qui vi fa vedere quanto è il carico sulla vostra CPU e quanta memoria state consumando quindi se qui mettete la frase famosa una delle qualunque dei vostri testi dovete parlare in inglese quindi who is Julius Caesar vediamo un po' se risponde la velocità non è il suo forte quindi vedrete che visto che usa anche la CPU va abbastanza lentamente ci pensa su vedete che usa un po' di CPU usa una descritta quantità di memoria e poi comunque comincia a rispondere Julius Caesar was a Roman dictator in statement who played a critical role eccetera eccetera adesso poi ve lo leggete comunque vedete che in un tempo abbastanza umano e in modalità diciamo abbastanza sintetiche fornisce una risposta che pur essendo di qualità molto più bassa rispetto a quella fornita da chat GPT soprattutto il 4 è comunque molto interessante e normalmente neanche troppo sbagliata adesso poi potete fare un fact checking se volete ma fondamentalmente non siamo troppo distanti del vero tenuto conto che è un qualche cosa che gira sulla vostra macchina e che gira praticamente completamente staccati da internet e senza scheda grafica direi che è un ottimo risultato buona giornata